Serata di terrore ad Arezzo, un sequestro lampo a scopo di rapina. In azione un vero e proprio commando ben organizzato, almeno sei malviventi che hanno assaltato prima una villa e poi un'azienda orafa specializzata nella lavorazione di diamanti. Attorno alle 17.30 l'irruzione nella villa alle porte della città, di proprietà di un imprenditore orafo. Al suo interno la moglie, una donna di 55 anni, la madre ed i suoceri. I malviventi, tutti avvolto e travisato, armati di pistola, trincetto e cacciaviti, hanno prima immobilizzato tutti i presenti, poi hanno iniziato a rovistare in cerca di denaro ed oggetti preziosi. Avrebbero così scoperto l'attività dell'imprenditore e costretto la 55enne a raggiungere l'azienda in via Marco Peregno. A questo punto quattro malviventi sono rimasti in villa, mentre altri due avrebbero raggiunto la ditta alle mie spalle per farsi aprire la porta. Aperta la cassaforte si sono messi a rovistare i tre preziosi, ma sarebbero stati sorpresi dall'arrivo della figlia della coppia, insospettita dalle luci accese di domenica pomeriggio. Da qui le urla all'allarme e la fuga della banda che si è portata dietro pietre preziose per un valore ancora da quantificare. Sono cose che preoccupano, c'è da aspettarselo. Io ero un maresciallo dei carabinieri, quindi sono cosine che qui a Rezzo sono sempre capitate. Le indagini vanno fatte a 360 gradi. In via Marco Peregno e nella villa alle porte della città sono arrivate le pattuglie della volante e poi il personale della squadra mobile che ha avviato le prime indagini. Al vaio degli investigatori adesso anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.